Signore e signori bentornati sul mio canale qui il vostro Tonokit che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 Manager 2024 pronti per far scendere in pista i nostri piloti siamo in Belgio, siamo a Spa signori, siamo alla gara e siamo al risultato delle qualifiche dodicesimo Zunoda, diciottesimo Berman e come potete vedere anche dalle strategie proposte Berman insomma le gomme le consuma parecchio allora allora signori non sono andate benissimo le qualifiche nel senso che Berman addirittura diciottesimo ma vabbè abbiamo dei componenti che insomma se calcoliamo che a livello di sottoscocca Berman sta usando sottoscocca vecchio e questo gli fa perdere diverse posizioni in bassa e media velocità poi teniamo conto anche che è Berman nel senso non è che possiamo pretendere e se non erro anche le pance sono diverse no solo solo quello in realtà però ecco signori la nostra situazione è abbastanza drastica come ben sapete ma cerchiamo di fare il meglio possibile e di non farci cacciare abbiamo delle soft medie e due dure nuove non è stata una buona idea secondo me portarsi due gomme dure nuove non si sa per niente allora allora momento 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 e qua abbiamo uno una e due secondo me la dura va usata va usata e potremmo anche usarla così fatemi vedere se è fattibile una strategia del genere è fattibile secondo me secondo me è fattibile potremmo anche provare con un'unica sosta e facciamo così dai proviamo proviamo a vedere signori sarà una gara abbastanza difficile dal mio punto di vista mentre vediamo il buon Berman ne ha due e due 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 uno ok a ver Berman allora possiamo farlo spingere volendo qua io quasi quasi andrei a fare così proviamo la proviamo così ad incrementare il ritmo va bene a cannone all'inizio a cannone vai e nulla signori vediamo un po' come come va quest'oggi sempre considerando che c'è lì quel quello spettro del licenziamento che ci mette un po' paura perché a livello economico siamo un po' nella merda pronti signori accendiamo i semafori let's go vediamo come andrà oggi qua a spa attenzione 3 4 sui motori 5 allo spegnimento il via del gran premio del belgio con la ferrari che parte dietro al solito max verstappen e yuki attenzione mettiamo subito l'aggressività ad entrambi verman guadagna una posizione attenzione su sargent yuki invece ci prova su ulkenberg ma davanti a ricciardo forse a fargli un po' da tappo però si inserisce bravo yuki bravo yuki undicesimo e fin qui tutto bene quello che doveva fare in partenza lo ha fatto però poi adesso c'è tutto il resto e sarà molto ma molto difficile signori perché non siamo messi benissimo la nostra auto c'è ma non si vede diciamo attenzione a ricciardo guasto subito così potrebbe essere la svolta per quanto in realtà yuki ha già perso il drs ma questo credo sia dovuto dal fatto che è l'unico con gomma dura e quindi andrà un po' in difficoltà soprattutto all'inizio intanto iniziamo già a calare con berman se no non ci arriva al pit stop e qua qua moci svernice immagino bandiera gialla sargent traiettore larga ok non ci interessa anche berman ha perso drs di bottas ottimo però noi signori sappiamo che i primissimi giri 3 4 barra 5 giri siamo in all'inseguimento modalità gambero perdiamo posizioni e poi piano piano i nostri piloti trovano il ritmo abbiamo già perso anche drs da wokenberg ottimo siamo durati molto attenzione stroll che ci prova forse prima della chicane no oddio l'hers non ne hanno usato tantissimo addirittura berman aveva ancora il 60% forse perché l'hers l'abbiamo appena cambiato e sono nuovi entrambi si è per quello finché a 3 secondi e 4 da wokenberg eh vabbè se facciamo così subisce il sorpasso Zunadamma va bene perché può darsi che sia l'unico a fare una sosta eh può darsi anche questo per quanto in realtà non è che la cosa mi faccia entusiasmare ho fatto delle scelte sbagliate nelle prove libere non avere nessuna gomma soft o almeno non avere la seconda gomma media è stato un gran una gran cazzata probabilmente almeno dal ritmo che sta tenendo Yuki oltre al fatto che ovviamente la fiducia la perde piano piano si continua ad essere superato infatti viene sverniciato anche da Giovinazzi ottimo mi sa che qua abbiamo sbagliato un po' un po' tutto a monte mi sa proprio di sì senza ne c'è anche Bottas Magnus intanto sorpassa Berman piastri guasto meccanico sta girando in quanto lo Yuki 52.8 come Giovinazzi Strode Ricciardo 57.49.7 mamma mia Hulkenberg 49.7 vediamo la fine di questo giro 52.7 no più di così non riesce ad andare Yuki signori è difficile oggi molto difficile e forse le nostre scelte non ci stanno aiutando quindi quindi niente adesso Bottas ci svernicia e questo signore è un chiaro segnale di difficoltà oddio ci svernicia è tutto da vedere perché Yuki non ci sta bravo Yuki tieni giù il piede vabbè vista la distanza siderale da Giovinazzi direi di andare avanti veloci poi se Bottas ci supera e se ne va è un altro discorso a parte che è attaccato anche Magdum se ne è anche Zuu è attaccato quindi mi sa che qui abbiamo problemi un po' più più grandi vediamo se riesce a difendersi ancora ultimo giro 52-4 fotocopia per Bottas però davanti girano nettamente più veloci il guasto di Ricciardo però si fa più serio Berman super a Zuu andiamo a vedere il surpasso qui siamo sul rettilineo riuscirà a passare? se vate sarebbe un'altra inquadratura però va bene sul rettilineo del traguardo era già col muso davanti praticamente quindi facile attenzione Bottas e Yuki stavolta alza il piede stavolta alza il piede eh qua qua signori è un bel casino però d'altronde non possiamo fare diversamente vabbè andiamo andiamo avanti un po' veloci dai allora i box le due has si è già fermato Bottas a testa con i giovinazzi curva 19 andiamo a vederlo al suo rettilineo è quello che l'abbiamo superato facile i giovinazzi sì però ce l'abbiamo incollato perfetto no stavo trovatevi a vedere giovinazzi gomme a 43 non è che l'abbia consumato più di tanto perché sergeant 41 no stavo vedendo appunto che si sono già fermati giro 11 e 12 interessante questa cosa interessante guardate 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 anche con 28% di gomma ultimo giro 54 e 6 adesso zunoda è effettivamente più veloce dei due piloti davanti e vedete anche di giovinazzi che va a bec 55 e 3 perché va a testa a coda ovviamente sarà più lento anche questo giro perché non aveva la spinta sul rettilineo strolla i box finisce dietro ma non per molto ed esce dai box con gomma soft ancora ok davanti sono tutti intorno al 50 55% di usura cioè di gomma rimanente e non lo so unis wuckenberg sul passo a bierman ok va bene come ci sta bierman con le gomme è un po' tirato non possiamo accelerare però va bene nel senso lui fa la sua gara e chi se ne frega possiamo anche volendo bierman volendo potremmo anche farlo partire e ritirarlo subito però non so se a una certa si incazza la dirigenza per quanto abbiamo anche una questione economica e cioè signori che noi fissiamo per entrambi l'obiettivo del diciottesimo posto e raggiungerlo con entrambi significa avere circa 900.000 dollari in entrata ad ogni gara che servono alla fine ci servono i soldi signori quindi corriamo per i soldi quest'anno perché non ci siamo accorti che abbiamo pagato un biglietto di ingresso nella formula 1 parecchio caro però vabbè andiamo avanti fino al pit stop di bierman cioè tra qualche giro ok giro perfetto per la sosta ai box di bierman che ha iniziato poco fa e le gomme vedete che sono proprio tirate tirate ha fatto anche un lungo la traiettoria larga cioè da 5-6 sta girando abbastanza lento ma d'altronde finirà in fondo eh finirà in fondo ma poi cerchiamo di spingere guasto per zuo guasto per ricciardo guasto per piastri guasto anche per le clerche che si trova in terza dietro a sainz e si sono fermati non ancora potrebbero davvero andare per la sosta unica eh quelli che non si sono ancora fermati eh più che intanto fa un 59 57 per stroll che ci ha superatissima con gomma soft e attenzione ricciardo 52 e 5 si deve fermare sosta per berman andiamo a vederla con yuki possiamo anche accelerare un pochino 2 e 5 ottimo sosta buona e berman rientra in ultima posizione e va bene lo teniamo così eh sto guardando che yuki può andare più veloce però siccome le gomme medie non arriverebbero in fondo secondo la previsione ma secondo me qua poi eh andremo andremo più alti con la con l'usura possiamo farlo andare anche leggermente più veloce ma aspetto di arrivare nella nella finestra tanto comunque su ricciardo ci stiamo arrivando eh 51 e 3 51 e 3 un po' un po' di airs lo recuperano con l'assistenza e con il neutro adesso se riesce a mettersi nel DRS da solo sarebbe top per poi noi eventualmente fagli usare l'airs per il sorpasso per scappare non dargli poi il DRS però deve veramente tanto verstappare e norris e non so se riesce dobbiamo a darglielo qua un po' di airs almeno alla fine cioè dopo la chicane sul rettilineo però ci arriva ci arriva bravo c'ha il DRS diciamo anche così dai ah si ferma Ricciardo maledetto va bene allora diciamo così signori ma sta zanzara adesso deve venire a rompere le palle e c'è dietro Alonso che ci svernicia perfetto è su un'altra strategia ovviamente si è appena fermato e non è la nostra gara ma direi 51 e 0 non male Hulkenberg e Giovinazzi girano più veloci ma si sono già fermati giusto soprattutto Hulkenberg che ha già la gomma al 47% signori andiamo avanti veloci e vediamo vediamo Yuki cosa può può fare speriamo qualcosa di buono attenzione a Berman su Zou sorpasso pulito e va e Berman va mentre noi invece con Yuki siamo in attesa di fermarci i box sto aspettando il momento per spingere ma credo alla fine di questo giro lo facciamo così andiamo fino alla fine del giro però quasi quasi lo faccio andare così lo faccio andare oltre mi sa Yuki perché non ci serve spingere troppo adesso ci serve arrivare con le gomme medie che si possono allora fammi ultimo giro quanto ho fatto 56 no sta girando ancora su tempi ottimi fai al prossimo giro non a questo ma al prossimo gli mettiamo tutto in attacco anche l'Hersel gli diamo non mi interessa bravo Berman sorpasso a Gasly andiamo a vederlo qui siamo alla curva 17 decide di provarci l'esterno cioè in realtà l'esterno ma l'ho fatto molto prima della staccata sorpasso bravo Berman quindi Yuki dov'è che sei ok facciamo così facciamo vai vai fammi sto giro spinto poi ci fermiamo andiamo avanti e vediamo bravo Berman sorpasso a Sergeant lo andiamo a vedere tutti i sorpassi che dovrà rifare se vuole arrivare più avanti perché in realtà facciamo così intanto ok in realtà sto guardando che si deve fermare Sargente e Zussi si fermeranno presumo adesso o tra poco fate i bravi ottimo 2-4 bravissimi buona la sosta rimane in tredicesima 10 secondi da Giovinazzi che però si deve fermare così come oh è successo qualcosa è successo qualcosa incidente tra più auto qui seguiamo l'azione alla curva 5 attenzione compagni di squadra Giovinazzi 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 e Ricciardo ottimo ottimo danni credo proprio Giovinazzi buon per noi signori sono fatti del male da soli e sono due macchine che si tolgono da davanti in realtà Giovinazzi era dietro di noi nessuna penalità attenzione va bene facciamo che devo facciamo andare un po' più veloce Berman tanto per intanto strolla i box ci finisce dietro eh Giovinazzi e i box erano i due che dovevano fermarsi Ricciardo ha danni ok nostro cacchio è ancora davanti e di parecchio anche era così avanti strolla quanto pare sì 1.8 su Noda vediamo qual è il problema ah che stiamo per entrare nella finestra riesce a prendere coso Ricciardo sì dai primo giro cosa ha fatto 1.57 dai che lo prendi Yuki non so che lo prendi bravo bravo così poi ti faccio fare un giro spinto ma anche con la benzina la benzina no la benzina aspettiamo un attimo bravo pigliati tu il DRS vai di potenza vai di attacco facciamoci un giro così con Yuki vediamo ho usato un secondo e 4 in un rettilineo di 200 metri allora spingiamo questo va bene la finestra va bene spingiamo questo giro con Yuki ok che giro ha fatto vediamo 45 e 5 vabbè abbiamo spinto con tutto anche con l'ERS quindi non dobbiamo prenderlo in considerazione dobbiamo però prendere in considerazione niente in realtà la possibilità che qualcuno davanti si fermi eh ma anche se si fermano sono a siamo a 30 secondi da 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 l'unso quindi c'è poco da fare dobbiamo sperare in un ritiro davanti o in un alunso che si ferma ma dubito che faccia un'altra sosta per quanto abbiamo comunque 30 secondi da l'unso quindi non lo prenderemo mai quindi con Yuki è abbastanza difficile Albon sorpasso a Berman con Berman possiamo mettere una soft se ce l'abbiamo eh vogliamo vedere una cosa noi una soft si ovvio non andiamo così veloci però piuttosto una soft va bene direi che a parte Berman che è attaccato da chiunque dovete spiegarmi anche il perché va bene hanno gomma nuova eh non ci sta Berman non ci sta si infila si ma non ha aggressività e poi deve far passare la Ferrari di di Leclerc eh sì e vabbè eh niente andiamo avanti vediamo Yuki 46,7 46,9 Stroll 48,4 Alunso teniamo d'occhio Alunso ma credo che più di così Yuki non non so quanto possa fare andiamo alla sosta di Berman e poi li facciamo andare se non ci sono grosse novità allora intanto ok ottimale quindi vai di pit stop metti la soft qua dobbiamo continuare a far passare tutti più un giro però ha solo ha doppiato tutti solo una volta a Verstappen ma solo perché qua qua a spa il circuito è lungo quindi per doppiare un un'auto ci vuole un po' Zuga sto meccanico quindi si ritira safety car parcheggia a fianco della strada no 10 giri alla fine tra l'altro noi ci fermiamo per 10 giri con Berman per forza per forza a parte che lui è nella sua posizione nel suo obiettivo però vediamo di spingere a cannone con le soft e di riprenderci la diciottesima se no sono soldi che non entrano e questo sarebbe un problema e questo sarebbe un problema 2-6 bravi riparte non è lontanissimo però 6 secondi da recuperare su Gasly 8 su 9 su Sergeant out zù si è ritirato è andato ai box però mi sa potremmo vedere se si è fermato o si è andato ai box ci fanno vedere Yuki tra l'altro ma cosa ma cosa vuol dire non ha fatto niente Yuki vabbè allora Berman intanto facciamolo no Berman fallo andare così sti cazzi deve recuperare tutto va bene signori andiamo veloci e vediamo se ma con Yuki dubito di riuscire a recuperare cioè gira 4 decimi più veloce ma non sono abbastanza no è un peccato però che non si sia ritirato nessuno di quelli davanti perché saremmo decimi un punticino lo prenderemmo siamo i primi degli ultimi mettiamola così va bene andiamo avanti attenzione che dietro Magnussen si è fermato e probabilmente quindi ci svernicia perché avrà montato le soft nuove esatto per quanto anche noi stiamo spingendo quelle soft con Berman e anche Ocon si è fermato adesso Berman è arrivato su Sergiant sarebbe la diciottesima posizione utile per i soldi però o lo superi o lo superi non è che poi sta lì dietro tutto tutto il resto del Gran Premio anche perché dietro c'è Magnussen che è lì cazzo ecco bravo come di fare un giro con l'Ersa Berman Yuki è tranquillo e facciamolo proprio andare tranquillo tranquillo non c'è bisogno di spingere non c'è bisogno di fare niente famolo andare tranquillo e via vi dirò recuperare anche un po' di carburante che non si sa mai per quanto non è ancora doppiato in realtà qua c'è Verstappen e qua c'è Yuki potrebbe essere doppiato ma facciamogli comunque recuperare un po' di un po' di di carburante Berman invece 2-9 Sergiant ottimo che sta facendo da tappo Magnussen non per molto ma glielo sta facendo Berman adesso dovrebbe finire il suo giro spinto per fare un suo miglior tempo 47-3 non credo Magnussen bloccaggio ole guffata clamorosa ottimo Sergiant bloccaggio ah tutti e due ma tutti e due insieme o uno dietro l'altro no Sergiant da solo e Magnussen da solo ha preso la via di fuga che è diverso c'è proprio andato per prati guarda ti dirò Berman quanto sei più veloce di Ocon tanto quindi spinge ancora allora pensavo fosse leggermente più lento cioè più veloce invece è abbastanza più veloce quindi potrebbe arrivarci sì ci arriva dai che ci arrivi Ocon per la gloria di cazzo sta succedendo perché adesso ha dovuto forse rallentare per il doppiaggio di qualcuno potrebbe anche essere cazzo è arrivato sotto vattela a prendere sto Ocon dai che c'è di RS oh vai spingi intanto devi fare solo un altro giro dopo quindi facciamo così Yuki come messo 18 secondi e 2 va bene ultimo giro intanto per Verstappen che ha rifilato 15 secondi e mezzo a Sainz dai Berman che ce la fai è perché Ocona le gomme messe peggio delle tue quindi eh che cazzo dovresti farlo già adesso cioè non ci voglio credere che non si sposta per provare un attacco posso dire che è un po' imbarazzante guarda cioè si sposta e poi si riaccuda ma non ha senso e poi e poi lo fa Oruge e poi lo fa Oruge neanche perché non l'ha neanche chiuso il sorpasso spostati ma spostati ma ma sei serio ma seriamente ma chi se ne frega ma noi qua abbiamo un rincoglionito cioè per carità è comunque nell'obiettivo e quindi diciassettesimo diciottesimo non cambia un cazzo ma è imbarazzante sta cosa è incredibile è incredibile neanche in staccata qua ma no vabbè dai lasciamo perdere che è meglio lasciamo perdere che è meglio va bene ha raggiunto l'obiettivo l'importante era quello Yuki con calma arriva al traguardo l'ultimo a tagliare il traguardo ok perfetto vabbè sono stati anche veloci oggi perché hanno inquadrato Perez è arrivato terzo è andato a prendere le clerk non me ne era accorto attenzione va bene signori non guadagniamo punti ahimè rimaniamo sempre a un punto dalla racing bull e e niente andiamo andiamo avanti nella nostra disastrosa situazione economica obiettivi raggiunti quindi vedete sono 860 erotti mila dollari meno i 130 di bonus a Yuki che purtroppo ci tocca dargli circa 730 ci danno i soldi 1.9 pensavo di più servito obbligatorio niente allora richiedi risposta qual è il problema allora situazione debitoria ok abbiamo di avere un profilo tra i nostri piloti affiliati ok ma non abbiamo i soldi lascia perdere posso unirsi alla key dow ma fa già parte ma birman fa già parte di noi cioè è già un pilota purtroppo titolare non capisco questa mail è un po' brutta mi sa accetta non fare niente lascia perdere dati post gara va bene situazione basta la situazione debitoria dobbiamo cercare sempre 1.91 ci danno la coinvolgimento mannaggia a voi tra l'altro abbiamo accumulato talmente tanto coinvolgimento da dalle attività precedenti che non è necessario non sarebbe necessario in questo piano di 6 settimane mettere delle delle attività però noi le mettiamo comunque perché vogliamo accumulare l'unica cosa è vabbè tanto le strutture queste per la progettazione non ci servono galleria del vento non ci serve poi centro di progettazione non ci serve è la produzione eventi scolastici previsto ingegneri di gara pubblicità carburante cappero dinamica va bene no la fabbrica no ecco gli eventi scolastici sti cazzi e ci mettiamo dai anche con l'ingegnere va bene è giusto per avere un po' di coinvolgimento in più rispetto a quello richiesto che alla fine cambia poco però davvero signori la nostra situazione è abbastanza drammatica adesso ci sono 25 giorni di sosta fino al gran premio di dolanda credo si esatto situazione auto come siamo messi chiedo umilmente non si è rotto niente questo weekend attenzione potrebbe essere una novità incredibile va bene siamo ventesimi eh si purtroppo facciamo un po' schifo non siamo messi malissimo nonostante non stiamo per niente sviluppando però però si è inutile che continuate a dircelo lo so cioè non mi fermerete mica ogni due giorni giornamento piloti va bene ok programma addestramento dei meccanici rip così arrivano riposati errori sosta ai box probabilità errori tempo di sosta dammi il tempo di sosta dai rilascio va 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 facciamo così ok vai avanti ancora oh avete rotto il cazzo però continuano a multarci signori stiamo andando davvero in banca rotta però purtroppo non è aumentato 83 bravo bisogna capire poi se questo oltre a influire sul morale della dirigenza dirigenza ho avuto cose con la con la con la con la kiksauber attenzione signori ci vogliono per i meccanici per i meccanici per i meccanici giusto sì ma porca vacca che cazzo rinnovo cosa non abbiamo soldi lascia perdere guarda se te ne vuoi andare a fine stagione vada vada pure pallier signori non abbiamo soldi per niente sarà difficile anche qualora dovessero fare offerte per qualche nostro pilo cioè qualche nostro per gli uchi più che altro molto infelice per le prestazioni ma le prestazioni dell'auto queste rimangono infelici tutto l'anno fatemi capire cioè più di così non potevamo fare abbiamo speso tutto e anche oltre quindi cioè che cazzo volete con molta calma arriviamo a zandworth e qui ci fermiamo signori pronti per andare a fare qualcosa anche a zandworth onestamente siamo siamo un po' così stiamo cercando di raccattare punticini sfruttando le poche occasioni che ci capitano ci siamo riusciti nella prima parte della stagione adesso è un po' più difficile ma come sempre io signori vi ringrazio per la visione per il vostro supporto per i vostri commenti che lascerete sicuramente e vi invito ovviamente ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e mi raccomando non perdetevi tutto quello che sul canale sta girando in questo periodo e soprattutto che arriverà nell'immediato futuro signori perché ci sono diverse uscite che stanno per arrivare detto ciò è stato un piacere e ci vediamo con un prossimo video alla prossima ciao 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 ciao